brooks adrenalin gts 22 è una scarpa da running per un corridore con appoggio pronatore che ricerca sostegno supporto e protezione durante i propri allenamenti ma cosa significa gts significa go to support adrenalin infatti presenta nell'intersuola la celebre tecnologia gate race progettata con l'obiettivo di supportare il piede e mantenere allineati i suoi movimenti con il ginocchio e di conseguenza dell'anca preservando da infortuni e da dolori alle ginocchia anche la conchiglia nel tallone offre un ulteriore supporto mentre la tomaia è traspirante ed avvolgente per garantire leggerezza e comfort dal primo passo all'ultimo stabilità ma anche tanta morbidezza infatti per la prima volta l'intersuola è costituita al 100 per cento da dna loft un mix di schiuma e aria che assicura atterraggi morbidi e una corsa fluida e confortevole in ogni situazione consiglio brooks adrenalin gts 22 a runners e sportivi con appoggio pronatore alla ricerca di una scarpa da running morbida confortevole che garantisca il giusto livello di supporto e protezione chilometro dopo chilometro